Le Final Eight di Coppa Italia in corso di svolgimento in Emilia-Romagna. A quest'apore le ragazze della Montesilvano approdano in semifinale. Ieri la squadra di Tino Perez ha battuto non senza difficoltà, direi il vero, specie nel primo tempo la Lazio. Prima parte dunque di sofferenza, quantomeno complicata, quindi hanno prevalso l'esperienza e la classe dei nerazzurri De Oliveira. State venendo le immagini, ha sbloccato il punteggio, ma i capitolini sono rimasti in partita pur caricandosi di falli a munizioni. Super Mammarella ha salvato la sua porta in più di una circostanza prima della goleada che arriverà nella ripresa. Doppietta di Guzzolino, rete di Lima ancora De Oliveira e Murilo per i campioni d'Italia. Jetson e Chilelli salvano l'onore dei laziali, finisce così 6-2. Vittoria dedicata al patron Ennio Barbarossa nel giorno del suo compleanno. Domani in semifinale l'acqua e sapone se la vedrà con Rieti a Faenza, diretta su Sky Sport Serie A a partire dalle 18.30. L'altra semifinale sempre a Faenza, domani ore 16, tra Eboli e Pesaro. La finalissima a Faenza, lo ricordiamo, domenica prossima alle 18.00. Bravissime le ragazze del Montesilvano di Marzuoli, partita senza storia contro la Ternara. Queste le immagini, successo debordante per 7-2, partenza micidiale. Gaillardo sblocca dopo 30 secondi, Bruna Borges raddoppia al secondo minuto. Grande intensità prima dell'intervallo il tris del Dincecco. La Amparo fa poker, secondo tempo dunque di Mera Accademia. Arrivano altri gol, Borges, Gaillardo e Amparo arricchiscono infatti il bottino. Domani a mezzogiorno a Faenza la semifinale contro Kick-Off. Insomma, complimenti sia all'Acqua e Sapone che alle ragazze del Montesilvano allenate. Lo ricordiamo da Gianluca Marzuoli.